Buonasera a tutti ragazzi, qui è Mr. Lob dal Minerva Studio e stasera vi svelo il segreto dei type beat. Il motivo per cui non dovreste usare i type beat, quello che nessuno vi dice, ma lo vedremo dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, allora, type beat, qual è il motivo per cui non dovreste utilizzare i type beat, quello che nessuno vi dice. A parte i livelli e i tag che sono orrendi sui type beat, però c'è una cosa che nessuno vi dice e che invece è importantissima nel non usare i type beat, ed è questa. E la qualità audio, potrebbe essere scontato nel dire, vabbè grazie, io lo so che comunque il type beat mp3 è normale che la qualità audio è scadente. In realtà non è così immediato, perché se ti dico sì, ok, ma qual è la parte che viene assolutamente degradata del segnale audio quando tu scarichi il type beat da internet? Non lo sai, appunto, ecco, perché nessuno te lo dice e nessuno lo sa, però ora vediamo di porre rimedio a questa mancanza. Cosa succede? Quando tu prendi un type beat e dici ok, bello questo, lo scarichi, almeno quelli che trovi generalmente su YouTube, succede che il programma che tu usi per scaricarlo comprime il file. Per comprimere il file perde, toglie, mettiamola così, la facciamo sempre, cioè toglie al segnale audio, al beat, determinati beat in una porzione di spettro che in realtà è importantissima per la resa sonora del beat. Di quale porzione di spettro sto parlando? Parlo del side. Tutti quanti sanno che c'è una tecnica di mixing in mid-side che si usa specialmente in mastering, qui arriviamo al punto, in cui quello che si fa è splittare la traccia in due aree, ovvero l'aria che è al centro, tutti gli strumenti che sono concentrati al centro della riproduzione musicale e tutti gli strumenti che sono concentrati ai lati, ok? Sul side. Generalmente sul side ci sono tutti gli effetti di riverbero, delay, anche alcuni strumenti pannati se insomma il beat è stato stereofonicamente mixato in una determinata maniera, però principalmente ci sono tutti quegli elementi del mix che danno carattere e profondità al suono, delay, riverberi, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui capite che questa è una parte importantissima del mix e soprattutto del master. Perché che succede? Che quando, ora vi farò vedere praticamente quello che sto dicendo, però succede che quando voi scaricate il type beat, ci registrate, poi su questo type beat registrato andrà rimixata la voce e rimasterizzato il tutto. Ok? Mo, vi faccio ascoltare di che cosa stiamo parlando. Allora, questa è una matrice, è un equalizzatore mid-side della Brainworks, il fantastico Bix Digital, è il V2 questo, che è un equalizzatore che lavora, lo possiamo far lavorare o in dual stereo o in mid-side. Ovvero, io posso scomporre tutto ciò che è nel mid e poi tutto ciò che è nel side ed equalizzarlo separatamente. Quindi è un tool molto interessante dal punto di vista pratico per quanto riguarda la gestione del mid e del side. Ora, ascoltiamo solo il mid, ovvero tutto ciò che sta al centro. Tramite questi due pulsanti, io posso scomporlo, metterlo solo in mid oppure solo in side. Ascoltiamo il type beat in questione solo in mid. Ok, questo è solo il mid. Vedete quando metto anche il side come si apre il mix? Perfetto. Ora andiamo alla sorpresa. Cioè, non so se vi rendete conto di quello che sta succedendo. Questo è il side. Completamente distorto. Digitalmente distorto. Cioè, qui mancano un'infinità in mani di beat. Lo faccio riascoltare. Cioè, ora voi ditemi. Se mi arriva un mix, un beat del genere a me in studio, che cosa posso fare? E questa è una cosa che va capita, perché se uno non se ne rende conto, dice vabbè, tanto, prendo un type beat, ci mixo sopra, ci reppo sopra e lo pubblico. Però poi andiamo incontro a queste cose. Quindi, ragazzi, basta utilizzare il type beat. Investite nei beat, investite nella qualità, perché la qualità paga sempre. Ok? Capite che cosa devo farci se mi arrivo un beat così? Non si può fare niente, perché già al monte è tutto distorto. Il type beat è interessante per scriverci, però poi, quando avete il riferimento, se vi affidate al produttore, vi affidate, in questo caso, a noi del Minerva Studio, quello che facciamo noi e gli artisti che arrivano col type beat è, ovviamente, riprodurre il beat. Rimanendo su quella linea, però, ovviando a questi problemi, principalmente, è, secondariamente, a dare personalità al brano, perché è chiaro che questo type beat che avete voi, insomma, ce lo possono avere un po' tutti quanti. Ok? Per cui, evitate i type beat. Evitate veramente i type beat. Se dovete fare qualcosa, investite nella qualità. Altrimenti, rimarrete sempre mediocri. A tal proposito, io, effettivamente, mi rendo conto che è difficile trovare beat in giro che non hanno questi problemi, anche perché i beat mp3 che voi trovate se l'Mp3 non è stato compresso non si è usato un algoritmo di compressione buono, effettivamente, da anche questo problema. Quindi, mi sono detto, come posso fare a risolvere questo problema? e ho lanciato il beat store di Minerva Studio. All'interno di questo beat store voi troverete dei beat che potete acquistare e sono totalmente liberi dal punto di vista della licenza. Cioè, potete utilizzarli nei vostri mixtape, nei vostri singoli come beat dell'album. non c'è problema in questo anche a scopo di lucro. Ovviamente non potete rivenderli perché è chiaro che questo qui non si può fare. Però, questi beat sono tutti quanti in formato wave mixati da me personalmente. Quindi, voi avrete già un beat mixato ma non masterizzato. Attenzione, questa è una cosa importantissima perché pure un altro problema è questo. Cioè, è un beat privo di dinamica fuori da qualsiasi tipo di logica di livelli. Quindi i nostri beat sono in formato wave quindi scaricate alla massima qualità in assoluto non avete questo problema nel side e in più sono mixati ma non masterizzati. Questo cosa vuol dire? vuol dire che quando voi andate a registrare sul beat l'ingegnere del suono che vi masterizzerà il lavoro successivamente ha una manovra uno spazio di manovra molto superiore in cui può veramente tirar fuori il pezzo come se aveste le separate vere e proprie perché quello che deve fare è solamente andare a montare la voce ma su un livello di mix e non su un livello di master il che cambia notevolmente la cosa ok quindi vi lascio il link in descrizione per andare a visitare il nostro beat shop visitatelo perché ci sono vari tipi di beat a seconda ovviamente del tipo di rapper che voi siete se siete dei punchliner o se siete dei rapper presi bene dei rapper un po' più conscious ok ci sono varie varie tipologie di beat che potete ascoltare prima e poi eventualmente se i beat vi piacciono potete acquistarli detto questo ragazzi se invece avete un programma un progetto musicale che volete portare avanti al prossimo livello al livello successivo in descrizione vi lascio anche il link per entrare in consulenza privata con me parlare del progetto e vedere di tirar fuori il meglio da questo progetto o se siete interessati a temi di mixmaster autotune tutto quello che riguarda il mondo post produzione dell'audio siete più degli ingegneri del suono orientati verso quel tipo di carriera vi lascio anche in descrizione il link per candidarvi ad una consulenza sempre gratuita con me in cui andremo a vedere quelle che sono le vostre esigenze didattiche e fare un piano ad hoc strutturato per voi perché è inutile è chiaro che ogni studente mi arriva con skills diverse c'è chi ancora non capite come funziona un compressore e chi invece è già oltre ok quindi il piano didattico va strutturato personalmente detto questo vi invito a iscrivervi al canale e di azionare la campanellina per restare aggiornati su tutte le nostre novità detto questo mister love vi saluta e ricordatevi di non scaricare i type beat perché come avete visto fanno cacare ok ciao ragazzi chiuso nel Minerva studio studio cucino sto mix cucino sto beat cielo beat a frate mudon ti caccia la hit ti caccia la hit caccia la hit come ali su